Grazie a tutti. I rarissimi eletti radicali all'interno delle istituzioni sono particolarmente orgoglioso di questa presenza, ma sono orgoglioso anche dell'attività svolta da certi diritti in questi ultimi 4 anni che seguo con molta attenzione e di cui appunto sono particolarmente orgoglioso. Quindi vi invito tutti a iscrivervi a certi diritti, ma soprattutto a iscrivervi a partito radicale, che è elemento fondante senza il quale nulla potrebbe esistere e quindi mi raccomando, altra iscrizione a pacchetto. Grazie. 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 Grazie.